Sono giornalista, un giornalista deve pensare sempre a una positività quando parla di mafia, nel senso dell'antimafia. Io sono giornalista dell'antimafia nel mio paese e anche qui. L'antimafia è un movimento molto importante e rivoluzionario. La società umana mondiale, non solo italiana, uruguayana, argentina, ha bisogno di questa antimafia. La Reggio Calabria è un emblema, lamentablemente, purtroppo, nel mondo dell'andangrita. L'andangrita è un cancro mondiale in questo momento, che in questo momento si è visibilizzato di una maniera spaventosa. Veramente. A livello mondiale, un personaggio molto brutto, molto mediatico, Rocco Moravito, ha preso come base Montevideo, Uruguay. Significa che l'andangrita, non Rocco Moravito, l'andangrita ha preso Sud America come un posto di lavoro operativo, criminale. E questa criminalità ha fatto l'assassinato di Marcello Pezzi e anche di due fiscali in Centro America. In termini di 30 giorni, tre fiscali hanno amassato, non un personaggio, ha amassato la criminalità internazionale. Marcello Pezzi ha fatto, ha fatto, ha fatto un crimen transnacional, il primo criminologo paraguaiano ha detto questa declarazione, il primo crimen transnacional di un fiscal paraguaiano. Perché? Perché Marcello Pezzi era un personaggio che, indudablemente, era un obstacolo in interessi mondiali. Mi testimonianza è la testimonianza del giornalismo antimafia. Io sono direttore dell'Antimafia 2000, che è filiale dell'Antimafia 2000, un giornal di cronica giudiziaria di hace 20 anni in Italia, che parla precisamente dell'antimafia. Bisogna che il giornalismo, come voi, parlate di questo problema. Perché la humanità, se non sei ignorante di questo fatto, tanta gente, vedo qua, ma mi preoccupa veramente, questa gente dove, dove, all'ora di fare l'attività politica, di ponere il voto politico, perché la politica sta insieme della mafia, purtroppo, lamentablemente è un termine spagnolo, purtroppo politica e mafia sono hermano gemelli. E questo è il problema. Devo ringraziare, come cittadino mondiale, cittadino uruguayano, anche a Motanto, a Italia, che io vengo da hace 30 anni a questo paese, perché questo evento, io ho guardato tanti giovani che si interessano per questo tema, è molto importante questo evento, che posso moltiplicare. In Italia, in questo momento, il giovane vive, per un punto la rivoluzione, per l'altro punto dorme, sta dormito, si dice dormito, dormito. C'è un sogno che deve rivoluzionarsi. C'è un movimento in Italia, in Palermo, che si chiama Movimento Our Boys. Il Movimento Our Boys è un gruppo di gente, di giovani e giovani, che ha stato fondato per una giovane di 13 anni, Sonia Bongiovani, che ha parlato di, attraverso dell'arte, deve lottare contro la mafia. Questo è l'evento importante che dobbiamo tutti vecchi, come noi, tutti vecchi come Grateri, come Lombardo, come Ardita. L'altro giorno io ho andato a una conferenza di Ardita, che ha detto, bisogna la magistratura, l'aere fresco per combattere, per lottare contro la mafia, perché il vecchio sta stanco, il vecchio lo hanno ammassato. Parliamo oggi troppo di 30 anni di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, facciamo un discorso teorico, metaforico, ipocrita, però la vera della lotta è la di parlare come voi, come questa giornata, come tu, veramente, come questo, come camarografo, di parlare così abiertamente al pubblico, al giovane principalmente. Purtroppo il giovane uruguayano vive una situazione di guardare, anche noi dare una rivoluzione così, però, purtroppo, in ultimo, in los ultimos cinque anni, Uruguay, Brasil, Argentina, Paraguay, veramente si è trasformato in un caldo di cultivo della mafia. Il giovane ha risvegliato in questo momento. Movimento Our Voice, esempio, c'è in Uruguay, c'è in Argentina, c'è in Paraguay. Il giovane sta cominciando in questo momento, mentre noi parliamo, in mio paese, in Sudamérica, a risvegliarsi. E veramente, purtroppo, la società uruguayana, la società argentina, è una società ipocrita, una società accartonata, che ha preso l'individualismo, il capitalismo, il consumismo come il valore absoluto della sua vita, non il pensiero della lotta per il collettivo, perché quando parliamo del lotta di antimafia, dobbiamo pensare nel collettivo. Signor Gratteri, in chi pensa il signor Gratteri, Lombardi, tutti con quanta custodia? Pensa nell'individualismo, che se sale fuori lo vanno a ammazzare con un esplosivo? Pensa nel collettivo, lo ha detto oggi. Le piaceva restare con il cane in sua casa, tutti insieme, in famiglia. Non è così, la verità è oltre, è oltre a realtà che in questo momento si sta. e l'italiano lo vedi. Io a Sud America, chissà, non lo posso vedere, però l'italiano lo vedi. Si è dimenticato di Giovanni Falcone, di Paolo Borsellino, di Rocco Chinici, di tanti altri magistrati, di Pepino Impastato, si è dimenticato di quello del Paolo Italiano? Aspetto che no. Per quanto, in mio paese, sì, adesso il giovane vive un sogno, però si sta risvegliando, di una maniera rivoluzionaria. bisogna, noi volevamo la rivoluzione, non la rivoluzione armata, la rivoluzione attraverso dell'arte, attraverso del giornalismo.